Andrea Damante Andrea Damante chiarisce, ecco perché non è più nello studio del GF Andrea Damante rivela la verità sulla sua assenza in studio per Giulia De Lellis. Andrea Damante ha deciso di svelare il mistero riguardante la sua assenza in studio nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne si è trovato di fronte ad un post in cui veniva indicato quanto pubblicato dalla pagina fan di Giulia De Lellis. La pagina in questione ha scritto, attraverso un commento, che Andrea e la famiglia dell'ex corteggiatrice non erano presenti nelle puntate poiché non erano stati più invitati dalla produzione. Ora Damante ha deciso di chiarire la questione e di rivelare il reale motivo per cui non si sono presentati in studio i cari di Giulia. Andrea ha dichiarato che quanto detto dalla pagina fan non è vero. Damante afferma che, per appoggiare i vari concorrenti, ci si presenta in studio solo qualora ce ne fosse davvero bisogno. Dunque, quanto scritto nelle ultime ore non è la verità. Infatti, nel corso delle ultime puntate non sono stati trattati argomenti riguardanti la figura di Giulia. L'assenza di Andrea Damante e della famiglia di Giulia in studio, ecco la verità. Ma non è vero. In puntata si va quando che ne hai bisogno non è uno stadio dove compri il biglietto per tifare la tua squadra. Andrea Damante rivela subito che non è vero quanto scritto dalla pagina fan di Giulia. Pertanto, l'extronista chiarisce immediatamente questo dubbio, che da qualche ora sta facendo il giro dei social. Nelle ultime due puntate sono stati trattati altri temi non riguardanti direttamente Giulia. Quindi ecco svelato il mistero. Ma non solo, Andrea spiega al pubblico che le pagine fan non dichiarano sempre le cose come stanno. E comunque le pagine fan ufficiali o meno non sono la bocca della verità. Andrea Damante sempre vicino alla sua Giulia, la Delellis però sente la sua mancanza. Finalmente Andrea ha deciso di dire la sua su quanto sta girando sui social. I fan della Delellis si erano preoccupati, poiché sembrava strana la non presenza del Damante in studio. Nelle ultime ore girava la notizia che i cari di Giulia non erano più stati invitati dalla produzione. Ora che Andrea ha chiarito la situazione, i fan possono stare tranquilli. Intanto, la scorsa settimana, la Delellis ha scritto una lettera per il suo Andrea, poiché sente molto la sua mancanza. A presto! Ma? Grazie a tutti.